In fuga su un'auto rubata hanno seminato il panico in centro città Verona, tre pregiudicati, Matteo Fusini, 33enne veronese, Nicola Cacciatore, 28 anni di Bovolone, Elvis Dicemri, 36enne di Soave, molto noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti, risultato essere tra l'altro la guida con un tasso alcolemico superiore al previsto, ma anche attualmente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari proprio per un precedente furto d'auto. Sono stati tutti arrestati dalla polizia al termine di un concitato inseguimento scatenato dalla segnalazione di un passante che ha visto sfresciare contro mano una Fiat Punto, segnalazione che succedeva di poco quella fatta al 113 delle proprietarie o dell'auto che ne denunciava il furto. Intanto l'auto con i tre a bordo si era fermata davanti ad un negozio dove il terzetto è entrato, sembrava una rapina ma non lo era. I banditi sono tornati in macchina e vistisi scoperti dalla polizia che nel frattempo li aveva intercettati, hanno iniziato una fuga tamponando le volanti e anche mettendo in grave pericoli passanti. E proprio durante una manovra spericolata sono usciti di strada finendo prima contro una volante della polizia e poi contro la parete di un palazzo. Devono rispondere di resistenza pubblico ufficiale, ricettazione in concorso, danneggiamento aggravato, mentre a dicembre, oltre alla sanzione per guida in stato di Abressa, è incriminato anche per il reato di evasione.